Bentornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Le storie di Andreas Muller ci fanno pensare il peggio. È rimasto incastrato nel treno e l'allarme non funziona Ecco il video dell'accaduto.Sono state ore di fuoco quelli di Andreas Muller Si è infatti ritrovato in una situazione a dir poco scomoda, nella quale nessuno di noi vorrebbe rimanere Ciò che è stato peggio, inoltre è che l'allarme non ha dato il minimo segno di voler funzionare Vediamo quindi nel dettaglio cosa è successo.Andreas Muller è rimasto incastrato tra due carrozze con una porta non funzionante e ha documentato tutto nelle sue storie di Instagram che riporteremo sotto Forse qualcuno potrebbe domandarsi chi è Andrea Muller? Andrea Muller È un ballerino di hip hop e breakdance che ha mostrato fin da subito una certa inclinazione per la danza Ha frequentato diversi crew che si esibivano in strada fino a quando non è entrato a far parte della compagnia M Con loro si è esibito ad Italia's Got Talent ed è qui che comincia la sua carriera televisiva Alla competizione arriva secondo e nel 2015 entra niente di meno che nel mondo di amici di Maria De Filippi È riuscito ad arrivare al finale ma purtroppo è stato costretto ad abbandonare il palco perché ha avuto un infortunio Un vero peccato per un ballerino così talentuoso come lui, che avrebbe potuto ovviamente dare tanto Ma si riprende la rivincita prendendo lezioni da Veronica Paparini e partecipando di nuovo alla competizione di canto e di ballo Ma non solo. Egli ha anche vinto arrivando in finale contro il cantante Ricky, diventa così il vincitore di Amici 2016 L'anno successivo pubblicherà un libro dal nome I sogni non sono nuvole Andreas Muller bloccato in treno, ecco le storie di Instagram che testimoniano l'accaduto Andreas Muller è rimasto chiuso in una carrozza totalmente guasta Il motivo? I suoi amici e compagni di viaggio erano andati oltre chiudendo la porta rotta alle loro spalle Non si erano accorti che lui aveva fatto un salto in bagno Le storie mostrano lui che cerca inutilmente di aprire le porte ma non solo questo Prova anche a premere il pulsante apposito per l'apertura delle porte ma è tutto inutile Noi supponiamo che sicuramente qualcuno è successivamente corso a dargli una mano Ma non è di certo una bella esperienza Ciò che è positivo è che Andreas Muller l'ha presa sul ridere, senza arrabbiarsi con i suoi amici e compagni di viaggio Un ottimo spirito.Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao